Palla all'interno dell'area, Flamini cerca la sponda per Boateng, l'inserimento di Abate, Abate può andare in percussione, porta il tiro, è spinta corta, El Sharawi la porta a Boateng, Pazzini, Milano in vantaggio. Le seconde palle, ancora una volta Abate molto bravo, come Medesciglio, i due terzini stanno facendo molto bene la partita, è lui che recupera la palla, poi tenta questo tiro. Pazzini, sicuramente Marchetti la deviazione è proprio troppo centrale, sempre in anticipo, El Sharawi non ci arriva lui ma ci arriva Pazzini, in Milano c'è una marcia in più 1-0, mi sembra meritato visto le occasioni, visto il predomino. Undicesimo gol in campionato per Pazzini, che si avvicina ai 100 gol in Serie A, con questo gol fa 100, la Serie S e le P. Guarda la seconda palla, ancora in anticipo Abate, molto bravo a tirare qui Marchetti, un po' così così, anticipo per la linea, poi il rimpallo favorisce Pazzini, che è più lesto di Dias. Qui ci sono state le progresse della Lazio per l'intervento di El Sharawi su Pederigna, determinante l'inserimento di Abate. Oddio, si arriva per recuperare il pallone, poi Pazzini può assolutamente sbagliare. Lo diceva Galliani nel pre-partita, Pazzini è un giocatore molto importante, lo si è visto sul primo gol e su questa girata, proprio le sue palle, nell'area di rigore, per anticipare il difensore, lo stacco e anche la fiondata che ha dato con la testa. Eccezionale in questo caso Marchetti, ma nulla può, perché nessun difensore va sul portiere, guarda come si l'ha fiondata, è subito lui che va, e l'attaccante Boateng non va in difensore, 2-0, Mila implacabile. Ha fatto una grande parata a Marchetti, ma non è bastato. Il gol di Boateng, 2-0, 1-2 mila, gol! Il ragazzo si vede in difficoltà, proprio nel disimpegno, prima ha sbagliato un passaggio orizzontale, dove è ripartita l'azione, poi qui Rado ancora una volta in anticipo, quel passaggio semplice favorisce Pazzini, che vuole andare proprio a cacciare in porta, c'è Boateng anche sbarcato, ma lui si vede che è in serata, in questo caso Guadarado come va troppo doce in questa respinta. C'è dall'altra parte Boateng, qui magari un po' in ritardo nel buttarsi a terra, un po' in arretramento, qui Marchetti non si estende bene, il tiro però è forte, imbalza anche in terra, sicuramente lo trae in difficoltà, 3-0 Pazzini su discori. Sono 12 gol in campionato per Pazzini.